Musica Tornerà al suo antico splendore l'affresco della Minerva per il ritorno ad Arezzo dell'altra rappresentazione della Dea della Saggezza, ossia la statua bronze e acusto di Ital Museo Nazionale di Firenze. È infatti iniziato il restauro dell'affresco che si trova nell'atrio del Palazzo di Fraternita in Piazza Grande, che sarà terminato entro il prossimo 6 maggio e che consentirà di vedere per la prima volta i colori originali dipinti da Angelo Ricci. Questo pittore dipinge con una tecnica particolare questa Dea Minerva, la Dea dell'ingegno. Poi, nei decenni successivi, fu posizionato su questa pittura un velo nero di bitugne. Pertanto, tutti coloro che sono nati dal Novecento in poi non hanno mai visto i colori originari di questa statua, di questa pittura. Questo, il recupero e il restauro dell'affresco di Angelo Ricci, della Dea Minerva, è il prologo per iniziare un periodo di appiccinamento progressivo all'arrivo il 6 di maggio della Dea Bronzea, della statua bronzia della Minerva, è ritrovato, come sappiamo, nel 1541 qui nella zona di San Lorenzo, dove c'è la chiesa oggi di San Lorenzo. Quindi è una preparazione per entrare in una giornata straordinaria.